Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, il 19 settembre inizia ufficialmente anche nella nostra regione l'anno scolastico, è vero che alcune scuole già hanno cominciato però è quella la data scelta per l'inizio delle lezioni, è un anno sicuramente diverso perché dopo anni di pandemia questa volta si comincia di nuovo tutti in classe, vedremo se sarà anche tutti senza mascherina e cercheremo di capire quale sarà lo spirito soprattutto in più, con chi parliamo oggi? Parliamo con Antonella Di Bartolo che è una buona giornata allora che è appunto una preside di una scuola importante a Palermo, importante perché è una scuola di frontiera dove si fanno, ora lo scopriremo, tantissime tantissime cose e allora iniziamo subito, la scuola appunto è lo Sperone Pertini, Sperone per chi non è a Palermo, diciamo per chi non è di Palermo non significa nulla, invece per i palermitani ha un significato molto importante, allora ma chi gliel'ha fatto fare andrà allo Sperone? Veramente il quartiere Sperone è un quartiere bellissimo, siamo alla periferia sud-est della città, è un quartiere che si affaccia sul mare, dalle enormi potenzialità, non soltanto proprio come luogo, c'è una luce incredibile che in altri quartieri di Palermo non c'è, grandi spazi, appunto il mare già si trova attraversando la strada, ahimè non balneabile, ma questo è un altro discorso, ma soprattutto con delle enormi ricchezze in termini di persone e di comunità e anche di scuola se possiamo dirlo. Allora, la scuola lì è sicuramente uno dei punti di riferimento, perché non c'è tantissimo oggettivamente, il quartiere è stupendo, però non ci sono tanti punti di riferimento e quindi questa scuola rappresenta davvero un luogo dove si fanno tante cose, quest'anno dopo questi anni di pandemia cosa farete di importante, di interessante durante l'anno scolastico? Ma intanto la scuola c'è sempre stata anche e forse soprattutto durante la pandemia, perché è diventata un quartiere in cui effettivamente anche servizi per la comunità, quindi servizi di tipo sociale non ce ne sono, tristemente chiuso dal 2004, proprio un centro di servizi per la comunità. La scuola è stata non soltanto presidio istituzionale votato l'istruzione, ma anche un punto di riferimento per le famiglie, quindi anzi io devo dire che durante la pandemia si è rafforzato il rapporto con i genitori e con i bambini, perché la didattica a distanza è stato non soltanto un modo di essere comunque in comunicazione, ma è anche stato un abbraccio a distanza, un sostegno a distanza anche per tante famiglie. Avete fatto raccolta, avete fatto sostegno materiale? Un sostegno materiale, perché appunto ci sono state tante famiglie in difficoltà, all'inizio del lockdown a Palermo non c'era una vera e propria emergenza sanitaria, questo ce lo dobbiamo ricordare, era più un'emergenza di tipo sociale, perché tante persone che vivevano di lavoretti, magari espedienti, anche lavoro in nero, ovviamente non potevano più fare questo tipo di attività, quindi tante nostre famiglie abbiamo capito che erano in difficoltà, quindi c'è stato da un lato comunque la comunicazione continua, quotidiana, c'è stato il sostegno materiale con tutte le nostre forze e anche ci siamo resi utili per esempio per la registrazione sul portale unico del portale di sostegno alimentare del Comune di Palermo, abbiamo proprio fatto un tutorial che valeva per tutta la seconda circoscrizione, per aiutare le famiglie a registrarsi sui vari siti e anche sulle iniziative di solidarietà digitale, tante cose ormai le abbiamo rimosse, le abbiamo dimenticate, però ci sono stati momenti delicati in cui la scuola c'è stata anche per accompagnare ciascuno di noi, io stessa ho accompagnato alcune mamme, alcuni papà a registrarsi sui portali di solidarietà digitale di alcune compagnie telefoniche, c'era questa campagna. Abbiamo dato i dispositivi, ma anche la connettività. Dobbiamo ricordarle queste cose a Palermo, che sembra tutto scontato, ma non lo è, ci sono ampie sacche di Palermo dove le cose minime mancano. Esatto, e quindi bisogna ricordare questo, ma anche ricordare anche i momenti difficoltosi perché comunque sono stati momenti in cui il legame con la scuola che è presidio dello Stato, noi siamo presidio dello Stato e quindi è lo Stato che ha un volto amorevole, che ha uno sguardo amorevole nei confronti dei concittadini e poi per i nostri bambini e le nostre bambine abbiamo approfittato per magari rigenerare, riqualificare alcuni ambienti e non smettiamo di inventarci attività di continuo. Per attrarre questi ragazzini, che la scuola per Tini ha un record sicuramente positivo perché collocata in un quartiere difficile, questo sarà bellissimo, ma indubbiamente difficile, però ha un tasso di dispersione scolastica bassissimo, come avete fatto? Adesso sì, adesso sì. Come avete? Se diamo a partire dal 27%? Allora, dieci anni fa il 27%, sì, addirittura alla scuola media anche un po' più alto, era il 28%. Uno su quattro restava a casa? Esatto, tanto da, devo essere sincera quasi ingenuamente, dire alla collega che mi diceva questi dati, io addirittura ipotizzavo che avessero sbagliato nel computo, che non poteva essere perché mi sembrava veramente assurdo in un paese civile un tasso di dispersione scolastica di quel tipo, ahimè era vero, ma come era vero che all'Apertini non c'erano le porte nei bagni, che c'erano le lavagne al posto delle porte nei bagni e che c'era tutta una situazione abbastanza ammalorata che abbiamo dovuto riprendere tutti insieme e comunque... Quindi avete arresto anche la scuola, diciamo, raccogliente? L'abbiamo resa intanto sana, sana dal punto di vista contabile, amministrativo, abbiamo rivisto alcune pratiche didattiche, abbiamo curato i rapporti con i genitori e i bambini uno ad uno, perché dietro ogni caso di dispersione scolastica ci sono persone, ci sono persone che vivono situazioni completamente diverse tra di loro, non è ovviamente un disagio soltanto del bambino, ma spesso è soprattutto della famiglia e quindi ricuscire il dialogo con la famiglia e comunque rendere la scuola un ambiente bello, dove banalmente si trova benessere, la scuola deve essere più bella dell'esterno se possibile, deve offrire qualcosa di più accattivante rispetto a quello che si trova per strada, altrimenti e soprattutto deve essere percepito come diritto e non come dovere. Quindi stiamo parlando del 27% in dieci anni all'uno? L'anno scorso all'1%. L'1%. Sì, e stiamo... Nella media regionale è veramente un record, dico perché? Sì, sì. Sicuramente, perché non sono questi i numeri soprattutto in alcune zone. Allora, che anno sarà? Che anno scolastico sarà questo? È un anno che inizia intanto bene, intanto inizia senza la mascherina, che per i nostri bambini soprattutto, allora premesso che i nostri alunni sono stati bravissimi perché hanno tenuto la mascherina sempre, addirittura hanno fatto anche delle messe in scena teatrali con prove e spettacolo con la mascherina, riscrivendo anche la pièce in modo da non abbracciarsi, non toccarsi. Abbiamo messo in scena Antigone con Valerio Strati, proprio riscrivendo la messa in scena in tempi Covid. Quest'anno però inizia senza mascherina e quindi con la possibilità, senza l'obbligo del distanziamento, anche se ovviamente bisogna stare attenti, bisogna stare attenti alla curva epidemiologica e soprattutto mantenere quell'abitus mentale volto alla elasticità, alla plasticità. Nel senso che una cosa che abbiamo imparato è che dobbiamo sapere far fronte alle situazioni anche nuove, improvvise, inattese, come è stata l'epidemia da Covid, in maniera creativa, intelligente, strategica e soprattutto mantenendo i nervi saldi e rassicurando genitori e bambini. La scuola è aperta anche il pomeriggio, no? La scuola è aperta. La scuola è aperta i laboratori, è sabato, dico se non lo so, anche nonostante le bollette Enel. Sì, però noi cerchiamo sempre, soprattutto grazie ai fondi europei, i fondi PON, di offrire attività ovviamente assolutamente gratuite. Quindi voi prendete i fondi europei, voi riuscite ad avere i progetti? Sì, sì, e non restituiamo neanche un centesimo, ecco. Potete fare qualche corso anche a qualche amministratore? Ma certo, potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere una buona... Diciamo che dovrebbe essere la pratica normale, perché è davvero... Abbiamo prima come regioni obiettivo convergenza, ma adesso, diciamo, nella normalità, tantissimi fondi, sia PON, quindi europei, ma anche i fondi ministeriali proprio indirizzati al contrasto Covid o comunque a contenere l'epidemia, che devono essere utilizzati per le infrastrutture, per la dotazione strumentale. Quindi, per esempio, ogni nostra classe è dotata di un touchscreen che è appunto qualcosa di molto simile e che rende anche... mette in comunicazione con linguaggi anche molto accattivanti per i bambini. Ovviamente non esiste soltanto... la modernità della didattica non sta soltanto nel digitale, tutt'altro. Però sicuramente aiuta e consente finestre su altri scenari, altri ambiti, altre dimensioni. Quali laboratori fate? Sicuramente lingue, lingue straniere, sia per la... il nostro istituto va dalla scuola materna alla scuola media, quindi dall'infanzia alla secondaria di primo grado. Sicuramente le lingue, ma anche teatro, giornalismo, visite guidate nella città, videomapping della città, perché crediamo moltissimo sulle potenzialità anche turistiche ed è anche su questo che stiamo lavorando nel quartiere, cercando anche di promuoverlo, prendendo spunto dai murales che abbiamo in qualche modo accompagnato in questo sviluppo e che il 22 ottobre vedrà un'ulteriore realizzazione. Grazie a un'attività che si chiama Sperone 167, che è un progetto di comunità e che nasce per mettere in quasi gemellaggio, dialogo, il quartiere Sperone con il quartiere 167 di Lecce. È un progetto di gemellaggio, sì tra istituti, ma anche tra artisti, tra comunità. E il 22 ottobre ci sarà un ulteriore murale realizzato da due artiste argentine che si chiamano Medianeras. Sarà un bozzetto molto interessante. Un modo per far rivivere questi grandi palazzoni. Esatto, perché tra le potenzialità del quartiere c'è anche questo fatto che queste palazzine di edilizia popolare hanno delle facciate cieche che sono delle tele, sono delle meravigliose tele. Quindi dal primo che è stato sanguellate nel 2019, grazie all'arte di crescere, poi si sono avvicendati tanti artisti, Igor Scalisi-Palminteri, ma anche Giulio Rosk, Cekos con Sperone 167. Quindi attendiamo il 22 ottobre. E tra l'altro la cosa bella è che anche questo murale sarà fatto con crowdfunding, non ci sono sponsorizzazioni o patrocini di enti pubblici, anche perché siamo in periodi, abbiamo operato in periodi anche preelettorali, quindi assolutamente... A proposito, periodi preelettorali, però noi siamo sempre, diciamo, voi siete sempre comunque, avete sempre un ruolo politico, tra virgolette, giusto? Nel senso politico che nel termine è bello, diciamo, è ampio delle cose, perché appunto ente pubblico, allora siamo in campagna elettorale, cosa si deve, con la regione cosa dovrebbe fare per realtà come la vostra, ma come tante altre realtà in tutta la Sicilia? Dico, cosa chiedete al prossimo Presidente della regione? Allora, sicuramente interventi importanti di, per quello che ovviamente pertiene alla regione, di edilizia scolastica, non soltanto in termini di sicurezza, che già sarebbe una gran cosa perché tanti edifici non hanno neanche il certificato di prevenzione incendi, giusto per dirne uno. Per non parlare antisismico o qualcosa. Esatto, ma anche, diciamo, avallare e potenziare il tempo pieno, almeno fino alla secondaria di primo grado, quindi permettere la riflessione scolastica, ma anche le attività pomeridiane, curricolari, perché c'è un gap rispetto al nord Italia che fa sì che di fatto i nostri ragazzi, i nostri bambini perdano a conti fatti un anno di scuola. Se si fa un confronto tra il tempo scuola di regioni come la Lombardia e regioni come la Sicilia, è come se i nostri bambini perdessero un intero anno di scuola. E comunque in realtà come Sperone, come Brancaccio, come Zen, dico la scuola anche il pomeriggio ha un valore, diciamo, importante. Importante, certo, importante. Si fanno attività fisiche, si fanno attività, comunque si sta bene, si sta bene in un posto sicuro, non si frequentano altre situazioni, quindi avrebbe un ruolo veramente importante. E quindi questo è quello di prioritario per quanto riguarda la regione. Invece per quanto riguarda il comune, visto che già il sindaco l'abbiamo fatto, quindi già abbiamo superato questa cosa. E anche lì, allora... Sindaco e assessore. Sindaco e assessore, sicuramente il tema dell'edilizia torna, perché ovviamente ci sono cose di pertinenza della regione, ma altre dell'ente locale, c'è un accordo quadro che non è stato rinnovato, che è quello che consente interventi di edilizia, diciamo, importante sul patrimonio comunale, e le scuole di Palermo, le scuole del primo grado, sono per lo più di proprietà comunale. Ma anche un serio piano educativo sulla città di Palermo, che si dice, diciamo, città educativa, ma ahimè, non lo dimostra nei fatti di esserlo. Nel senso che sulla carta c'è rispetto dei protocolli, di dichiarazioni dei diritti. Palermo è stata dichiarata, Palermo città educativa, però la città non educa in questo momento, non mi pare che sia rispondente a minimi parametri di vivibilità. Essere bambino a Palermo è difficilissimo, è difficilissimo, molto più difficile rispetto a altre città d'Italia. Basti pensare al numero, per esempio, di asidinito che ci sono. Io ovviamente posso parlare dell'esperienza che conosco meglio. Nel quartiere Sperone, a fronte di 3.000 bambini nella fascia 0-3 anni, non c'è neanche un asilo nido comunale. Uno è stato abbattuto. In realtà erano stati costruiti ben due asili nido. Uno è stato abbattuto perché non era recuperabile, ma anche lì la scuola si è fatta a piazza di quartiere e abbiamo progettato con l'ordine degli architetti, grazie a un percorso che si chiama Lab Sperone Children, una nuova vita per questo asilo nido e per l'area intorno, un'area a misura di bambino. Però il progetto è chiuso nei cassetti, è rimasto lì e speriamo che venga ripreso, se non in quei termini. Quindi facciamo un appello all'assessore Aristide Tamaio che segue questa trasmissione e quindi se questa cosa si può riprendere. Sicuramente sullo 0-3 anni, che è un segmento totalmente, in cui Palermo paga una retratezza veramente insostenibile. Sì, di anni, di anni. E quindi vanno fatti dei grandi passi in avanti. E questo ovviamente sono servizi di pertinenza comunale. A parte questo, dico qualcos'altro che le viene... Io penso che bisogna riportare l'attenzione sulle periferie che spesso sono non soltanto al margine, diciamo, geografico, ma anche sociale, anche personale, e investire in questi luoghi, investire in modo che sia possibile un'alternativa legale alla vita fatta di esperienti, anche di guadagni facili, ma che ovviamente non portano da nessuna parte se non a una detenzione. Quindi io ecco quello che... Ovviamente noi lavoriamo con i bambini per fare intravedere degli scenari presenti e futuri differenti. le nostre famiglie ci sono accanto perché condividono questo obiettivo della scuola, ce lo diciamo di continuo. C'è una vita diversa che si può fare. C'è una vita diversa che si può fare e che si deve fare. Però è ovvio che non bastano le chiacchiere, non bastano i proclami, non bastano le promesse. Investire e dare nuove possibilità a questi luoghi vuol dire esserci come Stato, come Regione, come Comune, con politiche di sviluppo che a loro volta diventano politiche sociali, politiche di lavoro, politiche sociali, senza cui non ci può essere una svolta di questi territori, che invece sono territori che proprio perché sono quasi sospesi possono diventare tutto. Certo. Possono diventare veramente il motore di una città. Di un cambiamento. Di un cambiamento. Soprattutto quando ci sono delle... Ultimamente c'è stato proprio in questi giorni un incontro in prefettura per parlare appunto di questo inizio dell'anno scolastico e si è parlato molto anche di questi fenomeni che sono orribili, quelli dei furti, delle devastazioni all'interno dei plessi. Si sta pensando sempre ai sistemi di videosorveglianza. Lei da dirigente scolastico, da preside, presidio, preside, che cosa... Qual è invece il sistema migliore per evitare queste cose? Perché poi alla fine saranno ragazzini che entrano e distruggono. Dico, non credo che ci siano altre persone che hanno questa volontà. Dico, magari sono appunto questi ragazzini che entrano là dentro per fare un po' di... e creano danni enormi, questo lo dobbiamo dire. Come si può superare questa cosa? Da parte le telecamere. Allora, io non credo nella scuola Fortino. La scuola Fortino non esiste, anzi, dovrebbe essere il contrario. In un'idea, diciamo, futuribile e possibile di scuola, la scuola non dovrebbe avere neanche i cancelli. Dovrebbe veramente sconfinare... Dovrebbe essere nel territorio. Dovrebbe sconfinare il territorio e diventare, diciamo, in continua osmosi con il territorio. Quindi diventare... Il quartiere scuola è la scuola quartiere, no? Quindi già quando si innalzano barriere è già comunque una sconfitta, per carità. È ovvio che bisogna proteggere tutto ciò che è stato fatto con sacrificio, con investimento di fondi pubblici, come capita nelle nostre scuole. E quindi i sistemi, diciamo, di protezione sono necessari e anche li abbiamo, diciamo, attivati noi in tutti i plessi. Sì. Ma alla base ci deve essere quella protezione del quartiere nei confronti della scuola perché è qualcosa a cui il quartiere tiene. A me è capitato di ricevere un venerdì sera di due anni fa, per esempio, ricordo perché... La telefonata di una mamma che aveva visto una finestra aperta. Si era resa conto che una finestra era stata chiusa in maniera magari non corretta. e però questo fa capire quanto le persone del quartiere ci tengano alla scuola e quanto, diciamo, la proteggano nel senso se la guardano, no? Ma perché questo bisogna fare vedere anche l'utilità della scuola. Certo, certo. Altrimenti se non c'è questo passaggio, diciamo, resta tutto tante belle parole. Sì. E queste cose si coltivano negli anni come le relazioni tra le persone. Alla fine la scuola vive di relazioni, no? E quindi le relazioni umane hanno bisogno di tempi, hanno bisogno di fiducia, di investimento reciproco. E quindi... Io inizio quest'anno il mio decimo anno lì e proprio... Sono stati anni bellissimi, ma soprattutto di relazioni umane con i bambini. Ieri proprio un bambino mi ha dedicato una canzone e lui è appassionato di musica neomelodica e mi ha dedicato una canzone. È stato un bellissimo modo di augurarmi buon anno scolastico, ma anche con le mamme, con i docenti, con il personale amministrativo e ausiliario. Soprattutto condividere la sensazione, la consapevolezza di avere un obiettivo comune, che è un obiettivo importante e che dà senso a quello che facciamo. Bene, noi sicuramente l'avremo ospite anche per altre puntate, perché vedremo di seguire tutto quello che si fa in quest'anno scolastico. Io ringrazio davvero Antonella Libarto per aver accettato il nostro invito e vi auguro davvero una buona giornata. Grazie a tutti i nostri spettatori